Partiamo adesso con un negativo, tu fai l'emergenza e un negativo, quindi vai in negativo, tu fai un comando sinistro, quindi la legge la vela, comando sinistro, negativo, quando ti fatti una stazione cattiva, viene in emergenza. Bene, in emergenza, vai 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 in emergenza. Non male per quel partito, per la città, non male per quel partito, per la funzione piena